E' negativo l'ultimo tampone restante tra quelli effettuati sui cittadini di Agropoli, l'anziano che si era recato con crisi respiratorie al San Luca di Vallo della Lucania e risultato positivo al test serologico. L'uomo era stato sottoposto ad un singolo tampone e dopo il risultato del test l'anziano si era recato con crisi respiratorie al San Luca di Vallo della Lucania e per prassi è stato effettuato il test serologico al quale era risultato positivo. L'uomo di conseguenza è stato sottoposto a un singolo tampone dopo il risultato del test serologico e si attendeva alla conferma dell'Asl riguardo la sua negatività. La notizia è stata comunicata questa mattina dal sindaco Coppola, intanto ancora in diminuzione i casi di coronavirus nel Cilento. Infatti, come annunciato dal sindaco di Casalvelino Silvia Pisapia, sono tre le guarigioni registrate nel paese cilentano a fronte dei quattro contagi totali che ora portano il bilancio ad un singolo caso. I casi di covid-19 nel Cilento restano quattro ad Agropoli e uno a Casalvelino, Perdi Fumo e San Mauro la Bruca, tutti in via di guarigione. Nel Vallo di Diano la situazione si avvia sulla strada della normalità, non si registrano nuovi casi da settimane e continuano le attività di screening sulla popolazione con buoni risultati. I positivi al covid-19 per la maggior parte sono ormai guariti. In provincia di Salerno anche ieri nei laboratori del Ruggi e di Eboli non sono risultati positivi tamponi relativi a residenti nel Salernitano.